Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio video. Allora raga, non so, cioè, praticamente già stavo registrando il video quando è andato tutto per i sali in propulsolo. Comunque, raga, oggi è la festa della mamma, pure tutte le nonne. Niente, raga, praticamente, faccio, non so se riesco a recuperare qualcosa da questo. Sto facendo un dolce, vedete? Ah, ho dovuto staccare e ho perso tutto. Quindi, raga, per di un momento, per fare la mano da me. Allora, continuo a girare, mi stavo dicendo che ho fatto un con il tune, sì, mi diceva per la mia mamma che non sono potuta scendere, a comprare il dolce, quindi se lo sto facendo io. Lei esce, è la mamma, quindi non ci faremo inizio in una seconda. E, raga, scusate per il sotto, facendo per il torno, stavo facendo, cucinando, il pranzo di oggi. Ok. L'altro video, praticamente, si vedeva, che, praticamente, la sococata la lo sciolgo. si doveva essere da buttare, però. Però, però, sono riuscita a recuperarlo, non ho ancora le mani fatte ricercolate, quindi, manchinate. Pensavo di buttarlo, invece, sono riuscita a recuperarlo, e tutto. Allora, io in cucina sono veramente un affrano, i panetti mi sono dovuti, una scusola, faccio vedere, che io le cose me le scrivo, perché, se no, non me le ricordo. In parte, tante volte che ho fatto questo cucina, diventavo sempre del duro, invece, una me la sono prego, qualcosa di buono, quindi, prima di buttare, diciamo, il liquido, che si è fatta dentro, isognate bene, il liquido, non lo provo. Allora, questo, se non ci fa né, tutto sotto, sopra internet, chiedete che complicate, non le riesco a fare, se non, ma tutti quanti diranno, ah, ma come non, no, non so, cucinare, ragazzi. Allora, vorrei solamente, che qualcuno, hanno i posti, così, sicuro. Allora, comunque, stavo dicendo, una morola, che è tutta, della scena, della scena provata. Allora, il burro l'ho messo, insieme al burro, e lo so che, 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 Allora vada, prima di andare a prendere la cosa per mantenere la fotocamera, quindi se la cagliono avanti fa questo, non è colpa mia, non bisogna neanche fare della roba fatica, quindi se si. Allora vada, prima di andare a prendere la roba fatica, quindi se è iniziato a prendere la roba fatica, quindi se è iniziato a prendere il rupo e con il rupo e con il rupo. questo è quello che è venuto allora raga ora lo metterò a 40 minuti a 175 minuti e aspetterò che finiscono tutti i 40 minuti per fare gli altri filori quindi niente raga poi dopo ci metterò gli schierabbi là sopra e niente poi è finito raga questo è quello che ho fatto oggi e niente raga che dirvi? vi lascio a tutti quanti e poi ci vediamo in questo video